Una battaglia personale contro il cancro e tensioni familiari crescenti. Come sta affrontando Kate Middleton questo periodo turbolento e l'impatto sulle relazioni reali? Ma come stanno gestendo i duchi di Cambridge questa prova così ardua? E come influenzano queste circostanze i rapporti con il principe Harry? In questi giorni la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sta affrontando con coraggio una battaglia contro il cancro. Un periodo difficile, segnato non solo dalle sfide della malattia ma anche da complesse dinamiche familiari. Il principe William, futuro erede al trono, si trova a dover bilanciare gli impegni istituzionali e le responsabilità familiari. I loro figli, ancora piccoli, e la difficile condizione di salute di Kate richiedono attenzione e cure costanti. Nel contempo emergono notizie di tensioni all'interno della famiglia reale. Si apprende che i duchi hanno deciso di non incontrare il principe Harry, che tornerà a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games. Questa decisione infrange una tradizione cara alla regina Elisabetta, che desiderava vedere la famiglia unita. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato a OK Magazine che, nonostante l'apparente freddezza, Il duca di Sussex si è informato sulle condizioni di salute di Kate, dimostrando una preoccupazione fraterna. Tuttavia, un incontro tra i fratelli in questo momento è considerato prematuro e rischioso, data la storia dei loro rapporti recenti. Mentre il principe Harry potrebbe tornare a Londra senza la duchessa Meghan, si discute se un incontro tra i cugini, i bambini delle due coppie potrebbe essere organizzato. Questo solleva interrogativi sulla possibilità di un riavvicinamento, sebbene la relazione Terry-Kate e Meghan rimanga tesa. In questo periodo critico, Kate e William stanno affrontando sfide che mettono alla prova non solo la loro forza personale, ma anche la solidità del loro legame coniugale e familiare. Come pensate che questa situazione influenzerà la famiglia reale nel lungo termine? Lasciate il vostro pensiero nei commenti qui sotto. Mentre Kate combatte contro il cancro, un nemico invisibile ma devastante, William si trova al suo fianco, fungendo da pilastro di supporto, non solo come marito ma anche come padre e futuro re. La malattia ha inevitabilmente portato con sé un carico emotivo e psicologico notevole che influisce su ogni aspetto della loro vita quotidiana e pubblica. Gestire l'immagine pubblica mentre si attraversano momenti tanto privati quanto difficili richiede una resistenza straordinaria. La famiglia reale, sotto la costante lente d'ingrandimento dei media, deve navigare tra la necessità di mantenere una certa privacy e la richiesta di trasparenza e umanità che il pubblico si aspetta da figure così in vista. L'interesse mediatico può spesso sembrare opprimente, specialmente quando le notizie riguardano questioni personali e delicate come la salute di un membro della famiglia. Ogni dichiarazione, apparizione o anche silenzio viene scrutato e interpretato, talvolta generando narrazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti, alimentando speculazioni e dibattiti pubblici. Non perdete i prossimi aggiornamenti su questa e altre storie della famiglia reale. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità. Inoltre, la dinamica con altri membri della famiglia reale, specialmente con il principe Harry e Meghan Markle, aggiunge un ulteriore strato di complessità. La decisione di non incontrare Harry durante il suo ritorno a Londra per gli Invictus Games è un indicativo del desiderio di William e Kate di proteggere la loro sfera privata e concentrarsi sulle necessità immediate della famiglia, evitando possibili tensioni o distrazioni. Questo periodo di prova per Kate e William è anche un momento di potenziale crescita e rafforzamento dei legami familiari. Affrontare insieme le avversità può unire ulteriormente la coppia e la famiglia allargata, mostrando al mondo che anche di fronte alle grandi sfide possono prevalere l'amore e il sostegno reciproco. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra vita.